Bella ragazzi, ben ritornati nel mio canale, oggi siamo su Gotham City Impostors per Xbox 360 gioco che scaricai circa 3-4 settimane fa, gratis, dalla storia di Xbox ovviamente questo gioco è disponibile anche su Steam, gratis, però non so se ci sia per Playstation insomma fatto sta che è un FPS, tipo Call of Duty ecco e ora vi faccio vedere le modalità dunque Deathmatch a squadre, insomma non ci vuole un genio a capire, classico Deathmatch a squadre su fumigazione è una sorta di dominio per farvi un paragone con Call of Duty guerra psicologica che è la modalità che andremo a giocare adesso cacciatore di tagli è uccisione confermata poi c'è sfide che è una modalità dove devi fare delle prove a tempo, un tipo e iniziazione è una sorta di intro dove spiegano i comandi e tutto quanto dunque noi andremo a fare guerra psicologica e ci vediamo direttamente in lobby bene ragazzi eccoci qui nella lobby io essendo di livello basso purtroppo non ho la possibilità di personalizzare un gran che le mie classi quindi andremo a utilizzare la classe predefinita combattente si intanto vedete audio disattivato perché c'erano due persone che stavano urlando perciò gli ho tolto il volume in modo che non si senta nel gioco dunque allora come potete vedere questo gioco è gioco abbastanza carino molto simpatico devo dire dove ci sono due fazioni io, cioè la mia, quella attualmente dove sono adesso e che è quella dei Batman poi c'è la fazione nemica che è quella dei Joker e allora lo scopo di questa modalità è praticamente prendere quella batteria che ce l'ha rubata intanto c'è una invisibile adesso vi spiego il perché e portarla in questa postazione qua ora in questo momento la bomba ce l'hanno i nemici perciò io devo difendere la mia postazione però dopo quando siamo noi a prendere la bomba ecco tipo adesso che è morto il portatore di bomba la possiamo prendere noi lo dobbiamo piazzare qui probabilmente dalla parte dei nemici come potete vedere ci sono delle specie di casse dei megafoni e attivando questa ho detto bomba forse prima in realtà è una batteria e attivando questa batteria partirà un countdown finito il countdown partirà questa musica che ci toglierà insomma le armi per una decina quindicina di secondi e potremmo andare in giro solo tirando sberle ci sarà la visuale che traballa insomma e praticamente saremo un po' intontiti ecco mentre i nemici potranno utilizzare le armi allora vi parlo un attimo dell'HUD in alto a sinistra c'è la mappa la minimappa insomma poi in basso a destra viene indicata la mia vita le munizioni e poi ci sono altri due quadratini uno con una specie di dinamite insomma e l'altro una specie di fiocina come volete insomma intenderla rampino ecco quello lì è il gadget personalizzato che si può mettere nelle classi allora io ora appunto ho il rampino ora vi faccio vedere che cos'è il rampino non è altro che madonna adesso vi faccio vedere metto qui ecco io sparo si aggrappa in un punto e mi traino così posso andare dove voglio è una cosa abbastanza carina ce ne sono tanti altri c'è i patini a rotelle che vi fanno andare un po' più veloce poi c'è quelle che piacciono a me le scarpe a molla che cavolo c'è ancora un jetpack che ti fa volare per un tot di tempo ci sono le ali come è arrivato questo qui da a me dall'alto si può planare insomma e poi cos'altro c'è vabbè non mi ricordo poi a destra c'è la granata insomma il simbolo della dinamite è una granata che una volta lanciata come potete vedere il quadratino in basso a destra comincia a ricaricarsi è una cosa bella secondo me perché non è tipo cod che hai una granata per ogni vita cioè nel senso su cod quando tiri la granata devi aspettare di morire prima di riaverla mentre qui si ricarica è una cosa bella dal momento che puoi utilizzare le granate però dato che c'è il tempo di attesa non è che vai in giro insomma a spammare granate e questo è una cosa positiva secondo me ho finito i colpi e sono morto giustamente che altro dire un attimo che ci penso ragazzi si poi ci sono i personaggi ora come avrete visto all'inizio della partita il mio personaggio insomma personaggio normale magro che ha 180 di vita poi c'è un personaggio magrolino quello proprio secco che non mi ricordo quanta vita ha fatto sta che ne ha meno del mio personaggio ha meno vita però è più veloce ecco quello lì potete vederlo è uno stecchino ha poca vita è vero però è rapido nei movimenti cioè si muove più velocemente rispetto agli altri e poi vabbè c'è quello un po' più robusto che ha 220 di vita che è il personaggio che uso io che è però un po' più lentino e poi c'è il ciccione ora proviamo a prendere la bomba che è il ciccione che è quello lì ecco che appunto ha più vita di tutti però è anche più lento di tutti allora intanto come avete visto prima stavo stavo sceguendo stavo seguendo una scia gialla che probabilmente lascerò anch'io ecco perché sono io ad avere la bomba come vedete sotto la minimappa c'è scritto tu hai la batteria quindi i nemici mi possono vedere sulla minimappa dove sono ora cercheremo di andare a piazzare la bomba ci proveremo sempre che non camperi no con granato roba brutta ecco già vedo uno che sta camperando e che mi fa bestegnare no non è vero buon ucciso proviamo no mi hanno distrutto con la spada e che altro dire quello con la bomba lascia la scia l'avete visto e personaggi vi ho detto è per le granate allora oltre alle granate ci sono varie cose tipo come avete visto prima c'era uno invisibile c'è appunto la pozione dell'invisibilità aspettate che prendo un fucile a pompa che lo smonto no ma quanti razzi spammava ma cosa va vabbè comunque ah vedete hanno piazzato la bomba è partito il countdown ora noi abbiamo 20 secondi per toglierla altrimenti ci uccideranno evidentemente guadagneranno un punto ora io la splanto no fammi splantramme ti prego mi fermo qui insomma guardate che splanta ecco e c'era l'infame invisibile con la spada morirai ma quanti missili spara questo ma che botta c'ha boh vabbè mancano due secondi finish round 0-0 non mi rigenero neanche ora c'è il cambio squadra insomma e 10-5 vabbè onesta come medium e 10-5 e aspettate cosa si sta dicendo si ci sono le granate c'è la pozione dell'invisibile mi si è piantato il gioco ok la pozione dell'invisibilità che vi rende invisibili fin quando non attacca no vi rende invisibili per 10 secondi più o meno 10-15 secondi poi c'è uno scudo che vi potete mettere sul petto e praticamente serve a deviare alcuni colpi una sorta di giubbottino antiproiettile ecco antiproiettili e poi non mi ricordo poi ci sono delle specialità tipo io adesso c'è una specialità che mi permette di rigenerare la vita un po' più velocemente rispetto al normale poi c'è una specialità che rende i tuoi proiettili cioè fai in modo che i tuoi proiettili abbiano un danno maggiore e c'è una specialità che non mi ricordo poi tante altre che non mi ricordo oltre alle specialità c'è anche una sorta di killstreak insomma ragazzi alla fine è un po' come cold diciamocelo ecco c'è una killstreak una sola che va a punti quindi non tipo mv2 che devi fare un tot kill di fila ma tipo black ops che devi fare i punti ah noi abbiamo attivato sì ecco vedete che i nemici vanno in giro senza armi vanno in giro tipo tirando sberle lui scappa perché madanna non può uccidermi però se mi tira una sberla tipo mi sciotta no no non mi uccidere ti prego ecco mi ha ucciso a sberle è tipo le sberle sciottano però attenzione perché non è tanto difficile cioè non sono tanto facili da usare intanto abbiamo guadagnato un punto e cavolo sto dicendo ah sì è una killstreak ad esempio io ho occhio di falco no occhio di lince praticamente quando faccio 200 punti tenete conto che comunque una kill è 100 punti un assist sono 50 e quando arrivo 1200 punti mi si sblocca questa questa sorta di killstreak ma vaffanculo tu che ti metti invisibile e praticamente rende i nemici visibili sulla minimappa ora magari tutte queste informazioni potranno avervi confuso però un gioco veramente molto semplice che io vi consiglio vivamente di provare anche perché comunque è gratis quindi insomma non costa niente provarlo poi pesa poco pesa pesa non me lo ricordo 2 giga forse e e basta per il resto ragazzi ora del del gioco dovrei aver detto tutto ora passiamo un po' a le cose personali allora questo dovrebbe essere l'ultimo video per mesetto una ventina di giorni lì ce n'è uno perché io allora oggi è giovedì giovedì non lo so cosa no mercoledì mercoledì scusate forse 30 luglio forse forse non sono sicuro io sì 30 io venerdì venerdì primo agosto prenderò un treno per Milano Centrale per la stazione Milano Centrale quindi ragazzi se volete incontrarmi ore 5 e mezza di pomeriggio 5 e mezza barra 6 stazione Milano Centrale no a parte le monate sarò lì perché vado dai miei zii a Milano appunto vado dai miei zii poi con loro andrò giù in Puglia in vacanza e starò fino al 20 20 di agosto quindi i video eventualmente torneranno dopo il 20 di agosto forse non ve lo garantisco ma potrei aver già preso la ps4 per quando tornerò con i video forse e che altro dire nulla quindi questo appunto sarà l'ultimo video per circa una ventina di giorni e no forse anche più e nulla non so che altro dire se non commentare il gameplay allora per quanto riguarda ah si giusto ottima cosa e l'unica pecca di sto gioco ragazzi che è l'unica cosa che un po' mi dispiace di sto gioco è che ci sono poche mappe saranno 3-4 ma no 4-5 4-5 mappe e quindi bella 4-5 mappe basta volevo dirvi anche sta cosa ci tenevo e per resto il gameplay non sta andando tanto maluccio sto facendo un 16-7 più di media 2 non male media abbastanza onesta tenendo conto che comunque sono livello 14 non ho la possibilità di farmi le mie classi personalizzate come ho su pc su pc sono tipo livello 75 ho il cecchino che ho usato ho imparato a usare particolarmente bene però qui su console non mi ci trovo veramente ragazzi non gioco veramente da troppo tempo ho perso la mano questo controller a parte che su pc ho gli amici che giocano quindi bene o male gioco con loro preferisco giocare con loro piuttosto che venire su xbox io mi trovo meglio a giocare su xbox mi piace di più però sono da solo quindi mi annoio alla fine no non puoi che figuraccia l'avevo preso da dietro vedete questo gli è rimasto 76 di vita ma tenete conto che quel ciccione lì ha 300 di vita 350 una cosa del genere invece ha solo 180 quindi si è girato mi ha smostrato nel senso che mi ha disintegrato e vi stavo dicendo appunto che ho perso un po' la mano questo controller quindi sostanzialmente è un risultato più che onesto qua sotto c'è qualcuno madonna fucile a pompa ti rovino la vita oh vittoria vittoria ragazzi 1-0 è stata una partita abbastanza sofferta sono pure sceso sotto la media 2 qua alla fine vi fa vedere i 3 migliori giocatori che hanno fatto più punti io sono il secondo modestamente spacco tutto no non è vero comunque provatelo sto gioco ragazzi veramente carino poi il personaggio esteticamente proprio si può modificare avete visto il ciccione che è arrivato primo aveva i tatuaggi ora vediamo se riesco a farvi vedere qualcosina allora abbandonare il matchmaking si allora qui su identità segreta c'è ovviamente il biglietto da visita allora modifica costumi ah vedete cappuccio si può modificare questo si sblocca praticamente giocando le supermonete si sbloccano il logo si può si può personalizzare tantissima roba mantello vedete è bello si può modificare tanta roba vediamo invece ah si può modificare anche la la voce la voce poi vabbè c'è anche la mascotte che è una cosa che vi segue durante la partita però un po' inutile faccio vedere i joker trucco allora la voce dov'è dov'è vi devo far sentire un attimo una cosa dove cacchio era modifica equipaggiamenti ecco qui ah personalizzato tra l'ho sbloccato anche bello vedete arma principale riserva oggetto di supporto io avevo la granata poi c'è il rampino è il curiosità rigenerativo che aumenta la salute più velocemente bombardiere pazzo che aumenta i danni delle bombe appunto poi l'occhio di lince come vi dicevo vediamo allora personaggio tipo di corporatura ecco qui potete scegliere magro agile duro massiccio il ciccione e ah eccola qua voce buzz qui si può modificare la voce no aspetta dov'era 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 quello eh non mi ricordo quale ed è poi comunque si può regolare il timbro per dargli una voce un po' più bambinesca oppure una voce un po' più da cattivo e comunque niente ragazzi fatemi sapere se in caso il video vi è piaciuto se conoscevate già questo gioco se vi piace magari se l'avete provato dopo aver visto il video comunque io vi saluto vi ringrazio ci vediamo al prossimo video